ma buongiorno giganauti benvenuti bentornati su questo canale prendiamo un po il discorso di questi pregi difetti di vari gestori telefonici in questo video parliamo di anti mobile come avrete capito dal titolo sto guardando il cellulare perché stavo aspettando non so qualche messaggio un avviso un niente solo chiamate d'emergenza ancora non è attiva che cosa che cosa non è attiva la sim uno mobile in 5g ebbene sì devo provarla deve arrivare cioè deve arrivare la sim è già arrivata stato velocissimo ho mandato ieri la varia documentazione per farmela attivare e sto aspettando è passato un giorno e niente ancora non è pronta attenderò quindi avete capito bene che l'andrò a testare e sono molto molto curioso perché perché qui per chi mi segue da tantissimo sa che ha una buonissima copertura vodafone futura fast web e con questo 5g insomma vorrei capire a quanto vado in casa è quella dispuso se avete visto il mio video è dispuso 5g non va tanto perché ha una copertura win 3 e qui win 3 non prende una mazza se mi sposto si se esco e vado dietro caso insomma in giro l'ho provata va bene sono arrivato quasi a 400 megabit al secondo in download va funziona tranquillamente probando le ciance stavamo parlando di anti mobile e andiamo a vedere questi pregi difetti di anti mobile perché perché mi è capitato adesso una cosa e ho detto guarda perché non parliamo di cosa va cosa non va cosa mi piace cosa non mi piace di questo gestore virtuale sotto copertura vodafone con una strozzatura limitata 60 megabit al secondo in download e 30 in upload andiamo a vedere allora intanto andiamo a vedere le loro offerte adesso c'è questa questa sim anti now è una nuova una nuova offerta che è scappata fuori sapete che anti mobile conosciuto molto per queste tariffe molto convenienti e specialmente sono offerte tariffe annuali o semestrali c'è anche qualcosa mensile e anche over over 40 over 50 insomma c'è un po per per tutti i gusti tutte le tasche ma con questa offerta è scappata fuori chi dovesse acquistare questa questa sim anti now che sarebbe vi faccio vedere questa qui è una sim da 2 gigabyte chiamate nazionali 2 euro e 29 minuti limitati per tutti è un piano mensile la scadenza è fine mese quindi il 30 ci sono altri 13 giorni 30 aprile ecco se vi dovesse capire ecco se dovesse capitare una roba del genere come non è capitato in questo momento è sparito tutto il monitor se si è bloccato tutto e computer non ho un'altra cosa succede bene già c'è poco tempo mi metto a fare un video nulla di preparati blocca tutto sparisce lo schermo adesso incomincia anche a laggare ti fa passare la voglia di fare questi cacchio di video più che altro usare il computer adesso prendere sarebbe da prendere il computer da lanciarlo giù dalla finestra e amen e niente userò il telefono c'è alla fine tutto stambaradan che si comprano computer telecamere questo quell'altro sopra sotto e destra sinistra e invece si potrebbe fare tranquillamente con uno smartphone ti metti di registri lo carichi monti il video che sarebbe tutto a posto e non lagherebbe neanche adesso incomincia a laggare e vabbè ragazzi che devo fare è così gli ho fatto una pulizia di quello che i file temporanei di tutto quello di tutto di più in questo computer le varie cose però boh non lo so non non ce la farà più se è ora di cambiare il computer avete detto poco insomma sono sono tanti soldi ne si farà anche questo simbo dipende se sostenete questo canale voi sostenete questo canale come amica dando soldi niente cosa dovete fare mettere insomma il like condividerlo guardarlo visualizzazioni insomma in questo modo tanto è per voi è tutto gratuito ma non ve l'ho mai detto mannaggia scusate non ve l'ho mai detto è gratuito per voi cioè vedere questi video non pagate una mazza e quindi cosa vi costa mettere un like condividere il video commentare dai su boh fine dai forse adesso non lagga più speriamo non lo so sto dicendo se voi acquistate questa offerta vi faccio vedere questa qui questa la sim entinao e 2 gigabyte abbiamo già detto 2 gigabyte di dati 229 piano mensile bla 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 ecco se vi dovesse capitare di ricevere la sim oro 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 a casa potreste vincere 200 euro in ricarica e già che siamo qui andiamo a vedere anche le offerte 30 gigabyte questo al mese per tutti questo è un piano annuale attenzione e annuale quindi per il primo anno andate a fare bene i conti clicchiamoci sopra andiamo a guardare un po effettivamente ve la faccio ragionare e questo intanto hanno messo sto costo di spedizione di 5 euro insomma qui è 29 euro e 94 il primo anno 9 99 per la sim 5 euro di spedizione insomma andrete a pagare questi 44 euro e 93 diviso i 12 mesi sono signori miei 3 euro e 74 75 quindi il primo anno per insomma andare a spalmo diciamo spalmarlo nel nell'anno ecco non sono questi due euro e cos'è che ha detto 2 euro e 49 quant'è che 2 49 primo anno e 3 75 che è sempre una buonissima offerta per 30 giga e parliamoci chiaro non è che sia faccia schifo 30 giga 3 ore 75 comunque continua alla gara il zio cantante vabbè e insomma è così e allora cosa facciamo andiamo a parlare un po quello che mi piace non mi piace dal mio punto di vista poi magari voi sotto nei commenti dite un po la vostra allora le offerte nulla da dire io ho due sim di anti mobile una c'era la figlia annuale niente da dire non si lamenta e va bene insomma naviga questi 30 giga tranquillamente un'altra sim che avevo presa quando c'era una super mega offerta di due anni addirittura quindi avevo pagato pochissimo due anni ecco qui mi è capitato diciamo andiamo sul primo difetto secondo me di anti mobile e mi è capitato con questa sim è una sim che a mia mamma quindi sul suo telefono come emergenza diciamo in quel telefono bianco e che mi piace vedere che poi si era anche rotta addirittura brondi me l'ha cambiato in garanzia o proprio quasi dopo un anno perfetto io l'ho portato non ha fatto storia me l'hanno rimandato nuovo in scatolato vabbè parte questo discorso ho rimesso la sim quindi ho ripreso il mio vecchio telefono quello dove questo qua guala questo grande telefono questo e qui naturalmente questo telefono avevo dato mia mamma con la sim di anti mobile ma logicamente mia mamma c'è risponde e basta gli sms non ci pensiamo nemmeno andare a vedere insomma mi sono accorto per farla breve all'interno c'era dei grandi sms di anti mobile dove mi avvisava la tua offerta è scaduta la tua offerta non sia rinnovata eccetera 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 perché magari non c'era il credito ed era nella sim dell'offerta che avevo fatto quella di due anni e quindi lui si doveva rinnovare automaticamente perché valeva l'offerta che ho fatto per due anni cosa ho fatto me ne sono accorto adesso ma questo non so da quanti mesi che sta andando avanti niente ho scritto ho scritto nella chat lo vedete qua in basso so se riuscite a vederlo e qua qui c'è la chat sul sito vedete andate qui gli scrivete poi vi apre direttamente la pagina se avete whatsapp web vi apre direttamente la pagina gli ho scritto dopo cinque minuti mi ha risposto ok la sua offerta è stata rinnovata riavvi il telefono c'è non hanno fatto tante storie hanno controllato il numero telefonico hanno visto che effettivamente ogni offerta era quella e l'hanno attivato ok da un certo punto di vista efficientissimi però il problema che sto riscontrando di quindi li butto un po nei difetti di anti mobile che ogni tanto capitano queste cose anche con le sim mi è capitato anche quella della figlia che annuale però a volte anche degli amici ogni mese non so come funziona il loro meccanismo ogni mese potrebbe capitare che non si rinnovi anche se sono offerte annuali è capitato anche a mia figlia e che non riusciva a navigare insomma dopo qualche giorno boi finiti giga non le finiti via vai a riguardare giga c'erano niente ricontatta di nuovo l'assistenza ripeto ribadisco efficientissimi però ogni tre per due insomma c'è questa problematica insomma non so anche se se anche a voi capita è capitato questa cosa l'altro problema che metto nei difetti magari non è per tutti però è questo discorso oltre della gare ma non è colpa di anti mobile se sta laggando il computer l'altro problema è il roaming cioè per navigare dobbiamo attivare il roaming sullo smartphone ecco io utilizzo un app per per monitorare insomma le figlie per sapere bene o male dove sono sapete noi genitori abbiamo sempre questi questi pensieri così ci preoccupiamo sempre non è per andare a sapere i cavoli no per star lì a vedere a controllare le figlie mai solo per rendersi conto magari in una posizione capita perché anzi a volte serve anche non so vabbè mi viene a prendere posso o mi manda la posizione alla figlia oppure bene o male so dove dove si trova in quel momento ecco con la sim di questa della figlia che ha questa anti mobile non funziona non riesco a vederla dov'è perché proprio utilizza il roaming tra i difetti si può mettere dentro vabbè che è strozzato ma è una cosa normalissima per gli operatori virtuali almeno la maggior parte esclusa adesso queste nuove offerte che scappano fuori con il 5g che lì naturalmente non sono così tanto strozzate a parte spuso che ancora non hanno non hanno sistemato uno mobile invece sì perché insomma anche cm link e possono arrivare a due gigabit al secondo insomma uno mobile ha fatto un bel salto ecco l'altra cosa l'app di enti mobile ha cominciato a funzionare tramite web quindi tramite il sito web insomma non è che sia un granché invece l'app su smartphone si l'hanno l'hanno migliorata adesso diciamo che è molto più carina e con tante tante funzioni finalmente sapete che non è da molto che è scappata fuori prima avevano sempre avuto dei problemi e però alla fine piano piano sono riusciti a sistemare tante tante cose bene ragazzone dai io aspetto i vostri commenti raccontatemi un po la vostra cosa vi piace cosa non vi piace di questa questo operatore virtuale sotto copertura vodafone nt mobile grazie per essere stati qui fino alla fine del video il solito come sempre il solito saluto non è che iscritti e solito abbraccio a tutti i modi ciao ciao da tito